Sto prendendo fuoco guarda Sto prendendo fuoco Sto prendendo fuoco Sto prendendo fuoco Trovate insici da parte di alcuni condomini Che se registrate ben denunciate La ragazza al terzo piano che mi ha chiamato Guarda quel coglione Ti mando un bacio A differenza di qua così faccio i soldi Un bacio Continuiamo la registrazione Ciao Oggi nuovo video E anche oggi Due sfida Siamo pronti Belli E carichi Perché oggi vai giù Voglio provare qualcosa di succulento Però devo aspettare il corriere che arriva Ma nel mentre Vi consiglio di Se vuoi qui su Instagram Trovate il link in descrizione E anche su TikTok Perché vai giù Amma ci paccà Ora Dobbiamo attendere In realtà io lo vorrei proprio chiamare Se no Faccio spettare Quindi È arrivato Sono arrivato Poi può correre Come Ecco il pacco Il pallone indistruttibile Bro Con più enfasi Che bello l'accetto Grazie a correre fake Ora Vaffanculo Ciao Oltre alla scenetta Molto cringe Ma l'accettiamo Il mio corriere Mi fa anche da cameraman Abusivo e sfruttato Quindi Ora Bisogna aprirlo E vediamo cosa ci esce Qui dentro Dovrebbe essere il pallone indistruttibile E prima di trovarlo Bisogna Unboxarlo Quindi Ora vengo Ci serve Un coltello Dalla punta arrotondata Siamo pronti Noi facciamo Delle dati sensibili E quindi Andiamo ad aprire Oh C'è un altro pacco dentro Sembra molto piccolo Sembra molto piccolo È vero Ma è molto duro Non è bello da dire Sono molto piccolo Molto duro No Aglio pronti Ecco a voi Il pallone Indistruttibile Ma secondo me È un gioco per cane Ora proprio Con lui Andremo a fare Degli esperimenti E prima di andare A distruggere Il pallone indistruttibile Voglio provarlo Come Realmente se fosse Un pallone vero Cioè Vorrei provare a palleggiarci È possibile Anche perché È molto duro Ah è molto duro Però proviamo Il palleggio Ok Andiamo a provare il palleggio Fammi chiudere Metto qua Mi vedo? Sì sì Mi vedo tutto? Vai ora Pronti E proviamoci Troppo a palleggio Secondo me Si può? Vai giù Ma qua Ma la chiamarla Il God League Youtuber League Quindi Prova a palleggio Superata Ora bisogna Distruggerlo Siamo pronti Per distruggere Il pallone Camera Tu sei pronto? Sì Ok Abbiamo scelto Gli attrezzi Per distruggere Il pallone Indistruttibile Che è qua Storico Che secondo me Si può distruggere Facilmente Ma noi Ci proviamo Anzi Se avete altri palloni O altre cose Da considerarci Indistruttibili Scrivetelo qui sotto In commenti Che noi Siamo pronti Come primo gadget Andremo a distruggere Il pallone Indistruttibile Con un coltello Quindi un classico coltello La punta Appuntita Non arrotondata In questo caso E sarà pronto Per distruggere Il pallone Ci proviamo Secondo gadget Un martello Poi c'è Sto martello E' ridicolo Cioè non è un martello Questo è proprio fase principiante Quindi lo utilizzeremo Fase principiante Poi Un cacciavite Con la punta A stella Penso a stella Cioè E' a stella Questo Gli esperti Fatemelo sapere Sì sì E' a stella Il bro E' più esperto Di me I bro Qui Ti pagano 1,20 Oggi Poi Una Aiuto Del cameraman Una chiave a pappagallo Una chiave a pappagallo Come il mio cameraman Non un mio amico Che si chiama antico Che è un vero e proprio pappagallo Quindi questa chiave L'andremo ad utilizzare Per provare a distruggere Questo pallone Come lo scoprirete A breve E come ultimo Ma non per importanza Ma per forza Utilizzeremo Una fiamma Ossidrica Quindi bro Questa qua Oh ma sta succedendo Questa qua L'utilizzerò io Non fatelo A casa Ma fatelo In chiesa Siamo scesi giù Siamo pronti E oltre a rumori molesti Che ci sono qui presenti Andremo ad effettuare Questo esperimento Qua ci sono tutti i nostri gadget E noi siamo pronti Iniziamo con il martello Il finto martello Test numero uno Il martello non martello No voglio Cioè Non fa solamente nulla Ma anche di qua Non fa un cazzo Quindi cambiamo gadget Test numero due Il coltello nel pallone Secondo me si scassa Sì 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 qua Oh si è già scassato È entrato Sì Vaglio Però è giocabile Eh bro è andato È andato È andato Questo già si è scassato Vaglio Non è tanto indistruttibile Come speravo Allora ci spostiamo Dato il forte caldo E alcune tipo di molestie Che si è registrate Ed insulti Da parte di alcuni condomini Che si è registrate Ben denunciate E andremo tranquillamente A provare qui sotto Sotto casa mia Andremo a finire a testare Gli altri gadget Però per ora Il pallone Non ha resistito Con il coltello Quindi secondo step Già è andato Andiamo a fare il terzo step Quindi cambiamo Questa volta testeremo Il cacciavite Il cacciavite Ci siamo La ragazza Al terzo piano Che mi ha chiamato Guarda quel coglione Posso fare anche nome e cognome Non lo faccio Per rispetto Guarda quel rimbambito Che sta facendo Ti mando un bacio A differenza tua Così faccio i soldi Un bacio Continuiamo la registrazione E dopo queste piccole precisazioni Siamo pronti Al test numero 3 Il cacciavite Il test numero 3 Il cacciavite Qua già è rotto Quindi proviamo In un altro punto Wow Non ci posso dire Me l'hanno venduto Come pallone indistruttibile Ma non è così indistruttibile Quindi Guarda qua Qua già cacciavite Qua giù 500 mi piace Aumentiamo il budget Invece di prendere questo Ne prendiamo un altro Quindi consigliatelo Nei commenti Ed è qualcosa di assurdo Qua giù Assurdo Si è scassato Tu cacciavite Qua giù Il pallone rimbalza ancora Abbiamo provato Il cacciavite E si è scassato Il coltello E si è scassato Ora tocca Al pappagallo E poi Infine La fiamma ossidrica Ma penso Che può andare solo peggio Pappagallo preso Pallone preso Pallone indistruttibile Vabbè Questo qua Diciamo che è quello più Vabbè Ma non si scassa Perché non entra proprio Cioè Guardi Non va Questo non va Quindi questo qua Vabbè Non va perché non c'è una presa Ma già se la metto qua Ma non c'è Questa forse non è andata Non è andata per niente Quindi Bocciato Quindi su Cinque Gadget Due Promossi E due Bocciati Ultimo gadget E come l'ultimo gadget Lei La fiamma Se prende fuoco Come cazzo facciamo Cioè Direi di andare a prendere Un attimo un po' d'acqua Andiamo a prendere un po' d'acqua In pausa Andiamo a prendere l'acqua Andiamo Andiamo Vai bro Corri a prendere l'acqua Vai vai Grande bro Dai Portaci a salvare Dai Siamo ad aprile Ma sembra giugno Infatti fa un caldo assurdo Siamo pronti All'ultimo test In più Seguitemi su tiktok Qua giù che stiamo facendo il panico Seguitemi Vi lascio il link Qui E in descrizione Ora Ultimo test Daglie Ok Andiamo a prendere L'ultimo gadget Eccolo qua Ci siamo Pronto? Ok Non credo sia partito Perdonci qua giù Eccola qua la vedo la fiamma Bro Bro Oh Si sta squaggando Ma non si distrugge Si sta solo squaggando Sto prendendo fuoco Guarda Sta prendendo fuoco Sta prendendo fuoco Sta prendendo fuoco Cazzo dice Cazzo Quanto puzza Mamma mia Fai te Mamma mia Puzza tantissimo Di candela Di candela Ma non si è Si forse si è rotto Sono inchiesi Guarda si sta squaggando Ehi Vieni a vedere Fai te Fai te Si sta squaggando Così Oh Sta prendendo fuoco Stava prendendo fuoco Cazzo Ora Lo lanciamo proprio E Affanculo Vai Ragazzi Il video di oggi Può finire qui Sono deluso Un po' Quindi Per piacere Scrivetemi nei commenti Altri materiali indistruttibili Ma realmente indistruttibili Da provare O Linkatemi tutto Sul mio profilo Instagram Che vi lascio In descrizione Sto sudando maledettamente Infatti ci sono 27 gradi E possiamo dire che Il cacciavite Lo ha distrutto Il coltello Lo ha distrutto Il martello Ha fallito Il pappagallo Ha fallito E la chiamossidica L'ha squaggato Quindi Voto al pallone Camera Da 1 a 10 5 5 Per me anche un 4 Io un 4 e mezzo Quindi vorrei un pallone Più forte E a 500 Mi piace Ripetiamo l'esperimento Con un pallone Ancora Più indistruttibile Ma realmente indistruttibile O qualche altra cosa Che vi consigliate voi Nei commenti E se il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete il video Iscrivetevi al canale Road Tu 40k E poi pensiamo I 50 Non ci accendisci uno Aiuto Forza Napoli Sempre Dagli Ciao